ciao ragazzi ben ritrovati primo match della nostra lega con elfi vediamo un po' come va questo sicuramente è un mulligan questo invece è un keep possiamo decidere di mettere sotto un aquirion ranger oppure una terra abbiamo due power play che sono dati da timbrook e distal melody abbiamo birch or ranger che ci permette di generare mana come possiamo sviluppare la partita abbiamo un turno 1 birch or aquirion ranger turno 2 un altro drop a 2 possiamo aggiungere umana stappare e giocare terra probabilmente ci conviene mettere sotto una terra perché comunque abbiamo allora o mettiamo sotto una terra o mettiamo sotto una aquirion se mettiamo sotto aquirion ranger abbiamo un turno 1 drop a 1 turno 2 altro drop a 1 e poi cosa possiamo fare a turno 3 beh sicuramente facciamo turno 3 timber watch se però mettiamo sotto una terra abbiamo un turno 3 del tipo abbiamo già giocato tutte le creature a turno 2 quindi abbiamo turno 2 una terra e riusciamo lo stesso a fare 3 mana quindi probabilmente come ne mettere sotto una terra qua possiamo pure yieldare tanto procediamo con la partenza che avevamo previsto penso che sia abbastanza indifferente da giocare probabilmente facciamo birch or perché il giocatore che stiamo affrontando è un giocatore che di solito gioca a famiglie quindi quindi invece si tratta di geskai probabilmente buona silver ranger ci dà un mana extra quindi facciamo tappo 2 stappo birch or prendo foresta gioco foresta potenzialmente cosa possiamo fare qua vanguard o silver ranger in toquiri dato che mi è partito così probabilmente mi conviene fare vanguard così da mettere una minaccia reale in campo che adesso diventerà un 2 2 e costringerà l'avversario a decidere se di rimanere open di caldo scuola oppure risolvermi questa vanguard prima che diventi troppo grossa se avessi avuto la nova elves in mano o qualcosa di simile avrei potuto stappare di nuovo un'altra creatura per fare appunto la creatura mi ritornavo in mano la foresta quindi saltavo praticamente l'endrop extra del turno dopo però avrei avuto comunque un'mana extra e un segnalino extra su un guard quindi sarebbe stata una giocata corretta qui vogliamo decidere se fare timber watch oppure priest più silver ranger preferisco fare priest più silver ranger per un semplice motivo che mi setta meglio il turno successivo comunque entra silver ranger che va a tutorare isola così abbiamo comunque il mana blu anche se ci viene risolto il birch or ranger poi tappiamo anche questi due ovviamente qua potremmo stappare un pezzo riprenderci in mano foresta per fare timber watch che non è una giocata sbagliata però avendo distal melody possiamo permetterci di tenere il mana open cioè possiamo permetterci di fare timber watch come a bocchino in to distal melody che tendenzialmente dovrebbe essere una win condition migliore o maggiore quindi il nostro avversario la tappa di tre mana rimanendo open di rosso sta giocando con una qualche versione di jeskai probabilmente e bene non ha rimozione non ha niente di strano abbiamo pescato foresta che possiamo permetterci di giocarla sia perché così abbiamo due attivate di quirion ma anche perché così facciamo timber watch senza troppi problemi poi tappiamo tranquillamente un birch il timber watch che hanno giocato per fare melody come nei nostri migliori programmi facciamo elfi abbiamo pescato un arch sustenance che non ci chiuderà la partita adesso però è una buona carta perché ci potrebbe dare un endgame nel caso il timbro lo zionissi risolto qua cosa possiamo fare? l'isolarent master probabilmente è la scelta migliore perché poi facciamo più creature però sì che non sarebbe sbagliato avendo arch sustenance però se pensiamo di fare prima vishvangard abbiamo più creature due rilishvangard grosse che dovrebbero riuscire a mettere più pressione siamo comunque un mazzo a base rossa quindi è probabile che abbia carte come fare in dice main deck quindi o magari anche le triggery non è detto però è possibile eventualmente se facessimo l'isolant master quante creature riusciremo a fare? sarebbero 1, 3, 5, 7, 9 abbiamo 6 creature e sarebbero 16 danni giusti quindi probabilmente ci conviene fare l'isolant prima allora facciamo mount master praticamente tutti drop a 1 che giochiamo costano 0 tappiamo l'equirion intanto no, tappiamo oh, ha concesso, peccato ci ha concesso la partita non penso comunque che avrebbe potuto riuscire a risolvere la situazione avendo questa mano abbastanza carica però sarebbe stato interessante capire se avremmo potuto uscire in qualche maniera post side contro questo che è praticamente un mazzo control non mi piacciono al colungo meridiano e wallwisher valutiamo anche arch sustenance che non è detto che sia buona dato che se siamo contro un mazzo che punta a risolverci il board avere una carta che si basa sull'avere un board non è molto buona in realtà se l'avversario ha un fog lock tra i suoi game plane avere arch sustenance e gruesome fate è probabilmente la scelta migliore quindi togliamo le carte che effettivamente non ci piacciono brindian longbone non mi piace averlo perché comunque rispetto a gruesome fate arch sustenance in early game tende ad essere più brutta perché il mana vogliamo spenderlo per fare board oppure per risolvere carte come distal melody mentre arch sustenance tende ad essere meglio perché è una carta che ci fa praticamente risparmiare mana e non viene risolta da braid possiamo mettere dentro un insieme di carte tra spider silk armor e blue elemental blast dato che non mi aspetto carte come realitarie e keggiante o crackland shaman o anche su willing sandstorm preferisco mettere dentro solo le spider silk armor poi dato che sono favorevole al gameplay in combo e mi aspetto che l'avversario possa avere carte come dignitario o pallone di pietra non volendo giocare brindian longbone posso mettere dentro gruesome fate quindi praticamente deputiamo qualcosa come due slot per la chiusura combo e tre slot per proteggerci da electricery potremmo in realtà non mettere nessun pezzo per la chiusura combo e mettere anche un paio di blue elemental blast però se l'avversario poi ci propone una vittoria che non passa per la combat rischiamo di perdere a caso possiamo provare appunto non avendo visto troppe carte da parte dell'avversario a tenere ars of sustenance e gruesome fate mentre potremmo giocare di real longbone però necessita di avere priest of titania in campo per essere efficiente al 100% il match up è a mio parere giocabile però dipende molto dalle partenze dell'avversario in questo caso noi abbiamo una mano che è ottimale anche se stiamo partendo per secondi non faremo niente al turno 1 probabilmente però la partenza con turno 2 priest of titania potrebbe essere la scelta migliore potremmo pensare di fare silver ranger per giocare attorno alle rimozioni ma in realtà abbiamo comunque il numero subito di terra praticamente ne abbiamo 4 dato che anche silver ranger conta come terra che ci può andar bene sacrificare una priest of titania in questo stage della partita un bolt utilizzato su priest of titania ci va bene perché è un bolt in meno su timber watch a questo punto o utilizziamo tutto quanto il mana e facciamo timber watch che non è una scelta sbagliata perché il turno dopo possiamo fare sia priest che silver ranger e abbiamo un lead stampito in mano dobbiamo considerare che se l'avversario ha un altro botto in mano potrebbe non essere intenzionato a tirarlo qui sopra se ha counter spell invece e non ha botto potrebbe essere la scelta migliore per fare timber watch dato che abbiamo un altro timber watch in mano possiamo pensare di giocarlo e tra virgolette sacrificarlo dipende cosa ha lui in mano vediamo sembra esserci un upgrade ok a questo punto possiamo effettivamente decidere di fare silver ranger più priest of titania diamo comunque una mano abbastanza carica per il prossimo turno comunque non stiamo saltando neanche un hand drop fino al turno 5 che è una cosa che solitamente non succede con elfi vediamo cosa ci propone lui a una certa dovrà cominciare a pescare con carte come mool drifter e quindi o ha dei counters per in mano adesso oppure se ha altre carte come electricery potrebbe decidere di risolverli adesso noi per prima cosa qui andiamo di timber watch penso che sia abbastanza rilevante se tappare il blu adesso facciamo dato che comunque non abbiamo particolari svantaggi nel tapparci il secondere da adesso secondo me era meglio fare timber watch tappando il verde e fintare eventualmente una blu metal blast lui non aveva niente in mano probabilmente o aveva una rimozione abbiamo avuto abbastanza sfortuna con questo lead estampid quindi non possiamo più fare altro perché non abbiamo il terzo mano per giocare il secondo lead un peccato aver fatto un lead estampid che ha visto effettivamente niente però bisogna anche dire che abbiamo visto qualcosa come tre terre con lead estampid una distant melody e mi sembra sustenance considerate che post side in molti matchup ah ok c'è una senso va bene non mi disturba in realtà ho un altro lead estampid in mano potrei fare un lissalana però sinceramente preferisco sfruttare la situazione ah ok stiamo continuando a pescare lo schifo 3 6 potremmo fare lissalana facciamo silver ranger ci prendiamo una terra prossimo turno facciamo doppiant master no in realtà non riusciamo a farlo doppio abbiamo 4, 5, 6 si riusciamo a farne uno più altre cose io ho tirato silver ranger perché avrei perché eventualmente per eventualmente provare a fare doppio hunt master il prossimo però non mi ero accorto che fossi a corto di una terra altrimenti sarebbe stato meglio non giocare niente eventualmente o fare silver lissalana hunt master questo turno e il successivo al prossimo era meglio fare un lissalana il turno solo un lissalana adesso e uno il dopo quello dopo no forse mi mancava il mana vabbè abbiamo risolto tutto ragazzi ok andiamo di lissalana siamo costretti a fare birchlor così dovremmo riuscire ad aggiungere 1, 2 si siamo giusti per fare il secondo hunt master è un peccato che però non stiamo vedendo benissimo facciamo hunt master e facciamo findorn io penso che il mio avversario stia giocando la lista di jeskai super greedy di aizen01 che gioca due sandstorm di side e gioca un numero fin troppo limitato di emozioni main deck o qualcosa di simile adesso purtroppo siamo a mano vuota abbiamo visto bravo doppio sandstorm che è sto schifo mi sembrava utile un'altra terra abbiamo visto più di metà delle terre del mazzo e abbiamo tipo 40 carta ancora diciamo che in un mazzo a 14 terre non saltare un land drop fino al turno 8 sembra essere abbastanza strano nonostante abbiamo visto due silva ranger giocando due silva ranger praticamente cos'è che si riprende qua sandstorm preordain per vital ice è abbastanza brutto contro elfi si è ripreso in mano preordain probabilmente ha tolto tutti i counters non penso che ci siano out in questa partita perché se l'avversario ok c'è uno scratch un po' aggressivo probabilmente ha la mano piena di altre rimozioni immagino adesso ci fa race ah comode in realtà il prossimo turno possiamo concedere no abbiamo fatto ephemerate non riusciamo a rimontare perché abbiamo una sola carta in mano e lui ne ha tipo una extra turno con ephemerate sì gli basterebbe anche semplicemente fare ephemerate su arcomate per prendersi sandstorm per quello sarebbe abbastanza facile per lui ok appurato che lui ci gioca su l'incendstorm non è una scelta sbagliata mettere dentro un paio di blue elemental blast possiamo togliere almeno le due carte della combo e puntare ad andare soltanto di race non ho visto dignitario da parte sua in tutto ciò quindi non è detto che li giochi oppure li ha tolti post side soprattutto giocando sandstorm sono un paio di carte che giocano contro tra di loro quindi non è detto che siano utili blue elemental blast penso che possa essere necessaria togliamo questi qua perché semplicemente sono altri spell in alcuni matchup possiamo decidere di togliere una o due lead di stampede potrei farlo potremmo in mente potevo togliere anche due spiders il karma lo mettendo dentro solo le blue elemental blast però non saprei questa la proviamo a ottenere perché abbiamo un turno due spiders il karma e lo turno due team watch non è una mano eccezionale contro di lui però generalmente parlando ci dà una buona potenzialità di chiudere a un certo punto della partita lui speriamo che abbia solo una rimozione in mano o speriamo di pescare una terra perché altrimenti ci inchioda tra l'altro giocherà quante terre rosse una o due bene abbiamo perso avete visto come un matchup che fondamentalmente può essere considerato positivo viene risolto da una mano che è praticamente fornita di un numero sufficiente di risposte in mano iniziale più carte di 8 post side come appunto le Sweden Sandstorm quindi questo mazzo di per sé non ha matchup positivi non ha altro che mani subottimali e mani eccezionalmente forti da parte dell'avversario potremmo anche continuare a giocarla in realtà ma non penso che ci siano degli out in questa partita bisognerebbe che l'avversario non avesse niente per poterla risolvere potremmo togliere una spell del silk armor non è una creatura e non è una spell molto impattante come i stun melody avrei potuto scartare il blu elemento a blast anche perché comunque non ho mana per poterla lanciare non ho mana blu vediamo se peschiamo una terra se peschiamo una terra possiamo pensare di rimontare la partita altrimenti non abbiamo troppi problemi a concederla dai passiamo al game successivo sinceramente è stato abbastanza demoralizzante doppia rimozione così in early game poi siamo passati dal flood da un flood abbastanza irragionevole probabilmente a un mana screw che ci fa capire che un mazzo con 14 terre è abbastanza instabile sotto questo aspetto beh penso che questo sia stato un buon esempio ovviamente le situazioni negative sono quelle che ci fanno capire meglio quali sono i punti di debolezza di un mazzo grazie a tutti